Tra Natale e Capodanno si continua a lavorare in Parlamento alla legge di bilancio. 32 miliardi di euro di manovra già votata in Senato e che in questi giorni passerà all'approvazione della Camera, ordini del giorno, voto finale e fiducia. Oltre agli sgravi fiscali, nuovi strumenti finanziari e pensioni, ci sono le proroghe che riguardano da vicino anche l'Abruzzo. Come il superbonus al 110% fino al 2025, già approvato dal Senato. Gli incentivi fiscali del 110% nelle aree colpite dai terremoti riguardano sia i condomini, sia gli edifici uni e bifamiliari inagibili dopo il sisma e, per ben 4 anni, permetteranno ai cittadini di affrontare una ricostruzione rapida, sicura e rispettosa dell'ambiente nelle abitazioni distrutte dal terremoto, avendo certezza delle risorse disponibili. È una legge di bilancio ricca che si accompagna al decreto PNRR. Il decreto PNRR è lo strumento che accompagna il piano di resilienza e di ripresa. Quindi sono tutte le norme di semplificazione e tutte le norme per coadiuvare gli antilocali, i fondi per le strutture che devono poi essere operative, le semplificazioni in materia procedurale ed urbanistica. Anche lì abbiamo portato a segno molte cose, ne cito una, che è la norma per la semplificazione delle procedure nella ricostruzione 2009, la cosiddetta legittimità, le cosiddette lievi difformità che bloccavano la ricostruzione, ma anche l'attuazione del PNRR. Quindi abbiamo lavorato in queste settimane tantissimo, giustamente, perché dobbiamo rendere conto ai cittadini del nostro operato, ma abbiamo raccolto davvero molti bei risultati. Penso che il 2022 possa partire all'insegna di un grande fermento, di un grande attivismo per la realizzazione di questo PNRR, accompagnato dalle misure della manovra. Nella stessa legge di bilancio per il 2022 è previsto anche l'ulteriore finanziamento della ricostruzione privata per 6 miliardi di euro, l'esenzione fini IRPEF ed IMU delle abitazioni inagibili a seguito del sisma, che continueranno a godere anche delle agevolazioni sulle utenze e i termini di mantenimento dei depositi di stoccaggio temporaneo delle macerie.